L'automatismo quantità adegua al carico il consumo di acqua del lavaggio e del risciacquo, grazie ad un afflusso intelligente. All'inizio del programma, l'acqua affluisce nel cestello e raggiunge il livello previsto, indicato dalla linea rossa superiore. Il cestello ruota e la biancheria asciutta inizia ad assorbire acqua. Questa è la prima delle tre fasi previste in questo caso. Il livello dell'acqua nel cestello si abbassa. Quando il livello dell'acqua raggiunge il livello minimo indicato dalla linea rossa inferiore, inizia il secondo afflusso. Il comportamento della biancheria nell'assorbire l'acqua fornisce dati sul tipo e sulla quantità del carico. Se la biancheria assorbe molto, il livello dell'acqua scende rapidamente. L'elettronica analizza la durata delle due fasi di assorbimento per calcolare la quantità d'acqua che serve per raggiungere il livello giusto, indicato dalla linea verde. Questa rilevazione servirà poi anche per gestire la quantità di acqua del risciacquo e la durata del programma stesso. Grazie a questo sistema, lavaggio e risciacquo sono sempre ottimali per ogni carico, con il minimo consumo di acqua e programmi brevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.